In questo periodo la maggior parte delle scuole superiori di Catania manifestano contro i tagli ministeriali alla scuola attraverso autogestione ed occupazione. Gli studenti dell'Istituto Nautico di Catania invece fanno una scelta diversa, decidono di manifestare a scuola in una maniera particolare, venendo in divisa. Perché avete scelto di non aderire ad un'autogestione o ad un'occupazione? In uno stato in cui un'autogestione, un corteo, uno sciopero o quant'altro non riescono più a far arrivare ad alcun risultato, i ragazzi dell'Isis Duga degli Abruzzi si sono impegnati alla ricerca di un nuovo tipo di manifestazione per far capire allo Stato quali siano le nostre reali esigenze. I ragazzi hanno il diritto di poter manifestare, di poter far capire agli altri all'esterno quali sono le loro posizioni relativamente all'importanza della scuola. Io credo che sia veramente un momento importante per questa scuola stamattina il fatto che questi ragazzi possano con questa loro presenza in seria far passare un messaggio chiaro. La scuola non si tocca, la scuola è importante per loro e loro vogliono che dalla scuola possano ricevere quelle strumentalità, quelle competenze di cui tutti si riempiono la bocca, ma che molti non attenzionano, che sono loro utili per il mondo del lavoro. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio e stiamo cercando di intraprendere un percorso di comodato d'uso ad esempio per i libri, però non è una cosa semplice. Per quanto riguarda le divise stiamo cercando di dare alle famiglie il 50% del supporto economico, perché le divise sono un modo per poter accomunare questi ragazzi all'appartenenza della stessa scuola e credo che sia anche un simbolo per poter dichiarare la loro appartenenza. Per cui stiamo cercando di dare loro un supporto, ma non è così semplice, la scuola non ha dei fondi specifici per questo. Non dobbiamo necessariamente chiedere tante volte, è un diritto di questi ragazzi avere queste cose, quindi non credo sia giusto che si debba protestare per questo.